Il nuovo film di Pablo Revello con gli studenti della Val di Chiana, la proiezione a Marciano. Ed ora cambiamo argomento perché venerdì scorso a Marciano è stata presentata la nuova opera cinematografica di Pablo Revello, il regista che come sempre ha coinvolto gli studenti delle scuole e che diventano protagonisti in prima persona. Ecco il servizio. Doppia proiezione e doppio successo per L'Osteria, l'ultimo film del regista Pablo Revello che ha riproposto gli studenti come protagonisti di un'opera ispirata ai testi del poeta senese Federico Tozzi. In prima linea i ragazzi della classe seconda della scuola media di Marciano. Ad affrontato appunto le novelle di Tozzi in una maniera inedita con personaggi, paesaggi e caratteristiche della provincia senese a Retina di fine ottocento inizio novecento. Alla proiezione è intervenuta anche Silvia Tozzi, nipote dello scrittore senese, uno dei massimi narratori del novecento italiano. Ha approvato il nostro lavoro e ha fatto questa osservazione, questo modo di leggere e interpretare quest'autore che poco si legge nelle scuole è un modo per rispolverarlo e per rinnovarlo e quindi per noi questo è stato il ringraziamento e il riconoscimento più ambito. Con l'occasione anche per ringraziare proprio tutti quanti quelli che hanno collaborato alla fattiva realizzazione di questo lavoro che per noi è importante perché non c'è solo l'aspetto didattico ma anche quello culturale, turistico per valorizzare quelli che sono i nostri territori. Ma i protagonisti sono stati loro, gli studenti dell'istituto di Lucignano e Marciano. Per loro c'è stato un grande impegno. Il mio personaggio, Olivia, fa parte dell'episodio Cornice che è l'episodio che collega tra tutti gli altri episodi. Il mio personaggio è un personaggio molto chiuso e come anche gli altri della storia porta dentro di sé diversi tormenti e sentimenti contrastanti. È stato molto difficile perché ha avuto un modo di interpretarlo, era molto difficile. Infatti lui era molto cupo e molto rabbioso e infatti si arrabbia per ogni cosa. Io ho fatto la figurante in uno degli episodi del film ed è stato un momento molto divertente e ho imparato molto da questo episodio. Allora, il mio personaggio era quello di Anna, che era una giovane maestrina e che il regista ha fatto diventare una scrittrice perché scrivere è quello che piace di più. Io ho interpretato Teresa nel episodio dello scultore e il mio personaggio è stato un personaggio abbastanza particolare che non mi rappresenta molto in realtà perché io penso di essere un po' più aperta rispetto a quel personaggio. Grazie a tutti.